Amici di Let's Dig Again, un saluto dal Museo Guarnacci di Volterra, siamo in compagnia del sindaco Marco Buselli. Volevo chiederle qual è l'importanza di un patrimonio archeologico come quello di Volterra per una città di questo tipo? È un'importanza fondamentale perché ci parla di quelle che sono le nostre radici, il nostro DNA. E quando queste urne, questo immenso patrimonio che abbiamo non ci diranno più niente, potremmo avere il museo più bello del mondo, però non sarà utile. Quindi è importante diffondere una cultura delle nostre radici, una sensibilizzazione diffusa ed eventi come questo servono a far sì che ci sia un avvicinamento, che la cultura non stia in una torre d'avorio, ma che riesca appunto a divulgare, a far crescere una consapevolezza. Perfetto, la ringrazio. Siamo in compagnia di Maurizio Moroso, CEO della Entertainment Games Limited, a cui volevo chiedere un bilancio per questa prima giornata dell'evento Tirrenica e se ci volesse riassumere quali sono le prossime date di questo evento. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questa bellissima opportunità. Il bilancio della prima giornata è, come potete vedere voi stesse, molto positiva. Stamattina al corteo abbiamo fatto il pinone di persone che ci hanno seguito e anche i rivolgatori stessi sono stati molto contenti. Alla visita teatralizzata c'erano più di 50 persone, per cui è stata molto, molto positiva. Questo per noi è il raggiungimento di un sogno, che avevamo preannunciato proprio a voi in intervista precedente a Turisma. Per cui questo è l'inizio di un percorso che durerà tre fine settimana. Le prossime tappe saranno il 18 a Popoloni, a Vetuloni e a Roselle. Il 19 saremo a Chiusi, a Rezzo e a Cortona. Ci sposteremo poi il primo giugno in Umbria, dove andremo ad Orvieto e Perugia. Il 2, l'evento finale, sarà la giornata di chiusura di Tirrenica a Vilano Museo Nazionale di Villa Giulia. Molto, molto bene. Grazie. Grazie a lei.